Vedere un cartello sul federalismo dal 1997 al 2014, se ha funzionato o meno, se questa è una CGA di Mestre che ce lo ricorda, tributi Stato Centrale più 42,4% e tributi locali più 190%, per cui sembrerebbe che insomma le tasse siano aumentate. Contesto il titolo, nel senso che qua non stiamo parlando di federalismo, perché il federalismo non è applicato. Noi siamo in una situazione di totale confusione perché i decreti attuativi rispetto al federalismo fiscale non ci sono.